Una festa, quella che si è consumata ieri pomeriggio a Mercogliano, non senza un pizzico di contestazione nei confronti di chi è con la valigia pronta, soprattutto Maniero, Scognamiglio ed Aloi. Le due prime uscite dell'Avellino, che ha affrontato una rappresentativa mista e poi una rappresentativa di Mercogliano, finiscono rispettivamente 6-0 e 10-0. Nel primo match Taurino mette in campo una squadra che forse più si avvicina a quella che ai nastri di partenza potrebbe essere titolare, eccezion fatta per alcuni ruoli. In campo per la prima mezz'ora Dall'Oglio, che ha fatto vedere buone cose insieme a Franco, mentre ha spiccato Ricciardi per corsa a voglia e condizione fisica. Per lui due reti, mentre le altre quattro sono state messe a segno da Murano, Di Gaudio, una bellissima punizione di Mikoski e uno scatenato guadagni tra i più pimpanti dei lupi. La seconda gara invece ha visto protagonisti la maggior parte dei calciatori in partenza con Marcone tra i pali, Rizzo e Tito sulle corsie, Matera e Gareto a centrocampo, Russo in avanti, così come Bernardotto e poi spazio a chi non fa più parte del progetto tecnico dell'Avellino. È stato Riccardo Maniero a spaccare la partita nella ripresa, quattro gol e due assist per lui, tripletta per Bernardotto e doppietta per Scognamiglio. E poi il gol di Mastalli, occasione dunque per mettere minuti nelle gambe solamente Bove, Forte e Dossena, oltre all'acciaccato Canutè, non hanno preso parte alle partite del nuovo Avellino.